Eccoci qua, siamo tornati caldi e croccanti, partiamo subito e non prendiamoci in ciance perché sennò i miei capelli cresceranno di più di misura e non ho tempo. Incapacità di contestualizzare, è un qualcosa di assolutamente di nicchia, secondo me non tutti lo capiranno. Cosa intendi tu Davide? Allora sì, ho scelto questo titolo particolare che appunto sì, in pochi capiranno perché effettivamente mi capita sempre più spesso durante le chiamate, ma anche in consulenza che ci sono persone che fraintendono, che sono diciamo le nozioni che noi eroghiamo gratuitamente nei video, persone addirittura che mi raccontano che comprano manuali e lui tizio mi ha detto di fare così, tizio mi ha detto di fare cos'ha, ma in questa situazione devo agire così? Insomma c'è questa difficoltà di base di capire quando e come fare determinate cose e con quale persona. C'è questa proprio difficoltà nel saper contestualizzare il tutto, quindi la situazione in sé, per come sono andate le cose, per gli errori che sono stati commessi, per il tipo di persona che abbiamo di fronte, e le persone tendono in qualche modo a fraintendere quello che noi andiamo a spiegare attraverso un metodo come se fosse una sorta di bibbia da seguire passo dopo passo con qualsiasi persona, in qualsiasi situazione. E non è così. Mi capita veramente tanto spesso, eh ma Steve mi mandano magari delle chat, no? Io analizzo e vedo magari un'aggressività tale da ingiustificata sostanzialmente, no? E no, perché Steve dice che nel video che quando ti scrive il monosillabo devo bastonare, devi fare qua, devi insultare, ma non è vero, ma non è vero, non è vero. Cioè Steve ha preso in esame una situazione specifica dove sostanzialmente è successo questo, questo e quest'altro, e in quel frangente bisognava porsi in questa maniera qua, ma in questo frangente no. Quindi perché i risultati? In questa maniera qua, anziché apparire esigente, risulti pesante, ok? Cioè bisogna saper contestualizzare le varie situazioni perché non sono tutte uguali. Questa è una cosa che in poche persone capiscono e credo che sia mancanza di intelligenza sociale o di esperienze alla base. Ma oltre a questo secondo me sai che cosa? Manca proprio una... Questi qua pensano che sia tutto schematico come risolvere un'equazione e lo vogliono così. Quando in realtà le variabili sono infinite si parla di rapporti umani. Esattamente, esattamente. Come se fosse, non lo so, un'espressione matematica, come se fossimo tutti degli ingegneri, che siamo lì a dire, devi fare A, B... Scusami, Davide, quante volte ti chiedono? No, ma io voglio che mi dai passo passo quello che devo fare. Tu dimmi, dammi lo schema. Sì, 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 dammi degli esercizi, fammi quello, eh. Ma in questo contesto come mi devo comportare così? Ma attenzione, io dico sempre, ma attenzione, con lei, non con tutte. Cioè non è che... Come posso rispondere monosillabi? Non dirlo, non dirlo. Assolutamente no, devi spiegarmi la situazione. Cioè è un monosillabo iniziale, quindi mando un messaggio d'esordio e dicevo un monosillabo, oppure è un qualcosa che è accaduto per la prima volta in dodici giorni che vi sentite. O addirittura è colpa tua, perché hai fatto una domanda chiusa, ok? Lei necessariamente poteva solo che darti una risposta monosillabica, quindi la colpa è tua, non è sua che si comporta male. Cioè a te preferisci il caffè o il latte? Il caffè. Eh, però queste risposte così mi fanno ammosciare i testicoli. Ma perché? Che? Cosa potevo risponderti? Te lo fanno. Te lo giuro, eh. Non sto esagerando, te lo giuro, io ho letto queste cose qua. Te lo giuro. E quindi cosa consiglio? Innanzitutto di andarsi a rileggere tutta quanta la conversazione, cercare di contestualizzare e buttare giù dei punti, cercare di capire chi dei due effettivamente sta investendo di più, e se è un qualcosa che è accaduto una volta o se è accaduto più volte, se sono partiti, diciamo, molto male fin dall'inizio e se di punto in bianco prendono e diventano magicamente aggressivi o, non so, cominciano a bastonare quando non l'hanno mai fatto. Cioè, bisogna anche lì, cioè, cercare di capire che la ragazza si è fatta una certa idea della nostra persona, un certo castello, e se io subentro, ok, di punto in bianco perché vedo il video di Steve, e di punto in bianco cambio totalmente il mio modo di approcciarmi a queste situazioni qua, alle difficoltà, ai monosillabi, al suo modo di atteggiarsi nei miei confronti. Cioè, erge un po' di incoerenza e quindi la ragazza ti percepisce come poco credibile e quindi, cioè, non ottieni un risultato poi. Bisogna, diciamo, entrare non a gamba tesa ma in punta di piedi, bisogna cercare di contestualizzare il tutto e capire se l'errore parte da noi oppure se l'errore effettivamente è partito dalla ragazza. Perché io non posso cominciare a creare attrito e discutere dove so di aver torto. Si può fare anche quello, ma a livello etico è sbagliato. Se io ho torto, ho torto e lo ammetto perché so ammettere i miei errori. Quindi nasce proprio questa sorta di incoerenza, questa confusione, dove lo studente è frustrato perché non ottiene il risultato nonostante abbia scritto copia e incolla la frase che tu hai dettato, magari in una diretta, e non capisce che cosa sta sbagliando. Questo è la parola. Quindi, cioè, per imparare ad avere questo potere analitico e questo potere di adattamento, tu che cosa hai fatto? Eh, beh, mi sono formato, ho sbagliato più volte, ho analizzato quelle che sono, diciamo, le mie chat, mi sono fatto, diciamo, anche aiutare da occhi esterni. Perché spesso e volentieri quando viviamo una situazione non abbiamo la visione reale di quello che sta accadendo, ma abbiamo una versione distorta. Quindi è anche ovvio che terzi che leggono i miei messaggi, questa chat, riescono bene o male a farsi, chiaramente persone esperte, non l'amico del bar che beve la birra che mi dice che devo dire che sei bellissima, ma chiaramente occhi esperti che ti vanno a tradurre tutti quelli che sono i sottotesti, tutti quelli che sono quei messaggi che ti hanno tolto valore o che ti sei tolto da solo in qualche modo e ti fanno capire che cosa stai sbagliando. Facendo errori, impari. Se tu non sbagli, non impari. Quindi come ho fatto? Semplicemente sulla mia pelle, tramite l'esperienza, momenti in cui ottenevo un risultato, contestualizzavo il tutto e cercavo di capire perché sono riuscito ad ottenere un risultato e capire perché alcune frasi con alcune non funzionano, con un'intelligenza sociale, formandomi, leggendo, facendo corsi di ogni tipo. Questo è. Capire il senso, il tono che sta dietro, il senso che sta dietro a tutto. Io voglio precisare una cosa. Quando ne faccio le dirette, io chiaramente devo magari commentare una chat, però è normale che l'occhio esperto, comunque l'occhio attento, sa che non deve copiare e incollare. Io sconsiglio di copiare e incollare. Io consiglio di riprodurre l'atteggiamento e capire perché sto facendo una scelta e perché sto scrivendo un qualcosa. Perché se no non ha senso, no? Assolutamente. Dico l'ultima cosa e poi chiudiamo. Cioè tu stesso nei corsi master quando parli della tua chat megagalattica del ribaltamento della situazione, comunque fai delle premesse iniziali. Non è che partiamo e la leggiamo così, ragazzi si fa così. No, fai delle premesse. È successo questo, questo e quest'altro. Lei si pone così e così e così. Il ragazzo fin dall'inizio ha fatto questo, questo e quest'altro. Quindi tu leggi una chat e un modo di atteggiarsi che è coerente con quello che è accaduto. Assolutamente, assolutamente sì. Grazie, ti metto un pollice in su, reagisci, pollice in su. Eh, ma non si vede poi nel video, lo vedo solo io. Va bene. Grazie Davide. Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao.